Ciao a tutti ragazzi sono Dave e benvenuti sul mio canale, eccoci qua con un nuovo episodio di Remnant 2 e questo è il proseguio dell'ultimo episodio perché vi ho tagliato le due parti ma in realtà la mia era una registrazione unica solo che poi mi sono accorto che effettivamente è durata una vita e mezza quindi niente, questo dungeon sarà stand alone in questo episodio niente quindi godetevi il video e io vi ricordo già, qualora vi piacessero i miei video e qualora mi trovasse simpatico vi invito calorosamente a lasciare mi piace e un commentino per aiutarmi con l'algoritmo please, poi chiaramente iscrivetevi eccetera eccetera dai, please, please, niente, buona visione dai questa musichetta allegra dei giardini imperiali quando poi ci sanno 92 stronzi a farci il culo, vabbè oh però, questo ancora dovevo vederlo pauletto mod e ingredienti, va buono ma è enorme questo oddio no, ma che è ma fra ma pure io, perché cazzo io ho sparato in questo modo spavando senza oh no mamma mia che salvataggio cristo santo no via scappacorri e c'è il nome è me l'ho schivato oh bro ma che cristo è boh vabbè guarda se continuano a spawnare certo che sono i guai bro oh vabbè bella test di cassa di uccellazzi di merda tocca provare a uccidre sta tizia qua sta manta volante se riesco a beccarla chiaramente si ma non la vedo bro troppa gente in sto dungeon ragazzi eh ho scoperto come si switcha a spalla ok bro porco schifo bro bro porco schifo boh vabbè c'è neanche il tempo di curarmi cristo santo però sto gioco eh diciamo che sono quei cazzo di uccellacci che ci hanno fatto uccidere mo infatti siamo full vita cioè noo è tornato l'uccellaccio noo bro dove cazzo sei noo bro dove cazzo sei ok noo bro neanche il video un cazzo oppela legame dell'anima le vocazioni saranno il 5% dell'anno base infetto che ritorna come saluta che lo indossa ma evocazioni che so è quello che mi perclime oh checkpointino davvero me lo dici così si gode c'è una strada anche di qua che avevo totalmente ignorato ok e questo invece cos'è mmm devo proprio però non lo faccio a casa eh ma qua ci siamo persi qualcosa l'ama della foresta attenzione un'altra arma corpo a corpo per carità meglio un'arma da fuoco eh però dai fa meno danno più probabilità colpo critico velocità non ci è dato a sapere però questo comunque è potenziato di 1 quindi può essere che in realtà danno siano la ma si dai mettiamo giusto perché è carina e tanto al danno appunto siamo lì lì eh che figata pensavo fosse più piccolina va bene ok va bene ok ma ma è caduto da sotto ma può ma nooo 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 oh spirale indurita andiamo al volo senza morire la luce del tirani si avviede 3% per anni 10% di salute mancante massimo 15% ti devo dire toglierai questo dai arrivano arrivano oh no oh no ma no sono due bro ma che cazzo vuol dire eh vabbè tu madre scappa 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 dio cristo ok uno fatto godo ok uno fatto godo ok beh dai mi pareva anche più difficile andiamo ragazzi se riusciamo a uccidere sta cosa qua ciao ciao bro eccoci 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 ok ok vediamo allora questo vabbè munizioni slancio e basta solo quello un'arma un'arma no zero zero proprio vabbè io spero che questo video vi sia piaciuto se così fosse vi invito calorosamente a lasciare un like e un commentino per sopportare il canale per aiutarmi con l'algoritmo e niente poi mi raccomando qualora non lo foste ricordatevi l'iscrizione ricordatevi di attivare la campanellina e di condividere questo video con i vostri amici per ampliare il mio pubblico niente io vi saluto e vi ringrazio love you ciao